Ciao ciao a tutti, oggi consueto appuntamento mensile con Cartamodelli Magazine. Mi è arrivato da qualche giorno il numero di giugno e come sempre mi fa piacere sfogliarlo insieme a voi. Partiamo con la rubrica il modello del mese dedicata ad un abito stampato. Le stampe vistose e colorate, in particolare i fiori ma anche fantasie geometriche come possiamo vedere qui dagli esempi delle passerelle, hanno preso piede già dall'anno scorso e diciamo che sta un po' continuando la loro fortuna. L'abito presentato ha una linea che a me ricorda molto gli anni 50, senza maniche e con pants al seno è tagliato in vita mentre la gonna è a ruota e viene tra l'altro consigliato di realizzare una fodera in tulle proprio perché l'effetto risulti ancora più ampio. È un abito sicuramente versatile perché a seconda degli accessori abbinati può essere adatto sia al giorno che alla sera e la versatilità è proprio un po' il leitmotiv di tutto questo numero a partire anche dal servizio sempre perfetta in ogni occasione. Un servizio che si apre con l'abbinamento di una giacca, di un blazer e di una gonna dall'effetto bicolore. La giacca è un oversize con taglio dei fianchetti laterali, il collo a revers e l'allacciatura con due bottoni. La gonna invece è una longhette dritta, non troppo complicata da realizzare, ha un'allacciatura sul fianco e davanti presenta questa apertura laterale con una fila di bottoni che sono quindi fondamentalmente decorativi. Segue poi un combinato smanicato, smanicato lungo e blusa. Lo smanicato si chiude con un unico bottone e viene indossato con dei pantaloni aderenti che in realtà dalle foto non si vedono. Abbiamo qui il figurino, ecco vedete la particolarità di questi pantaloni molto aderenti, è l'effetto leggermente svasato in fondo e soprattutto questa apertura di spacchi nel centro davanti della della gamba. La blusa è in organza con maniche a palloncino, quindi maniche ampie a tre quarti arecciate e un collo a punta. Devo dire che in un modello di blusa di questo tipo personalmente non amo molto l'effetto rigido che dà al modello la scelta di un tessuto come l'organza che chiaramente invece è proprio evoluto ma a mio avviso tende un po' a ingrossare e soprattutto a rendere molto pomposo l'effetto ma logicamente questo è un mio parere assolutamente personale e prendetelo insomma come tale. Bello l'abbinamento seguente di un abito in pizze rosso con una giacca a vestaglia aperta e molto molto lunga come vediamo anche da questa foto. L'abito ha un andamento leggermente svasato, la scollatura a V e una cucitura lungo il centro davanti che si conclude con uno spacco. Mentre la vestaglia ha una linea un po' trapezioidale molto morbida, è priva di allacciature e la manica è a giro e si conclude poi con una sorta di campana. Devo dire che questo tipo di capo, questa sorta di vestaglia di giacca estiva, lo vedrei bene anche con un outfit un po' più casual, anche un po' per sdrammatizzarlo, in particolare vedrei bene abbinato un jeans sempre un po' svasato, un po' a zampa di elefante che vada proprio a sottolinearne il richiamo agli anni 70. Abbiamo poi una tuta, un capo sempre versatile e svelto perché un po' come gli abiti interi non richiede abbinamenti, la infili e vai diciamo così. Questo modello presenta una scollatura V, bretelle sottili, taglio sotto il seno e un nodo da cui poi parte lateralmente un pannello, un pannello che dà a tutto il modello ancora più ampiezza, un'ampiezza poi sottolineata anche proprio dalla gamba del pantalone. Gonna nera e camicia bianca è il combinato seguente, la camicia in voile quindi molto leggera e impalpabile presenta sul dietro un taglio, un carriè, con pieghe che vanno proprio a creare un effetto di ampiezza e di morbidezza sulla schiena. La gonna indicata come cucitura facile è dritta e presenta poi un voile asimmetrico che crea come una coda sul dietro. Ultima mis di questo servizio, un abito lungo nero accostato ad una giacca a kimono. Dal figurino si nota che l'abito ha un particolare taglio obliquo sulla gonna che è poi in sbieco, mentre la giacca è appunto un kimono, un kimono morbido di facile realizzazione perché chiaramente è sfoderato e privo di allacciature. Qui viene realizzato con un prezioso tessuto di paillette, io personalmente vedrei bene anche l'utilizzo di un tessuto a fantasia, magari una seta un po' in stile giapponese, proprio per sottolineare l'effetto orientale della giacca e smorzare anche un po', devo dire la verità, la serietà di tutto questo nero, di questo abito lungo e nero. Passiamo ora al servizio nuovi classici con una serie di capi basic rivisitati in alcuni dettagli, quindi resi diciamo un pochino più alla moda grazie ad alcuni dettagli. Vediamo ad esempio questa camicia, fortemente asimmetrica perché da una parte abbiamo una manica intera, dall'altro invece si presenta quasi come un top monospalla, una camicia che ha anche delle pieghe laterali e accompagnata da un pantalone dalla linea maschile, quindi dritto e con pants alla vita. Nella pagina seguente i protagonisti sono un trench in cotone sangallo e un abito senza maniche. Il trench presenta collo in piedi alla coreana e allacciatura a doppio petto. L'abito invece è molto semplice, ha una linea trapezio con spalline sottili a incrocio e secondo me se indossato con una cintura in vita come da fotografia diciamo che viene smorzata un po' la linea prendisole più da giorno che l'abito ha e a mio avviso ne guadagna in eleganza. Segue un altro abito, un abito nero corto molto giovane con giro all'americana e una profonda scollatura sulla schiena. Come vediamo nel figurino, l'abito poi si stringe in vita con una fascia cinturino e la gonna scende a campana. Molto bella la tonalità di arancio con cui è stato realizzato questo tailleur composto da giacca e bermuda. La giacca ha collo a revers, allacciatura con due bottoni e tasche applicate, mentre i bermuda presentano le classiche pieghe dei pantaloni maschili e scendono come vediamo piuttosto dritti. Proseguiamo con un piccolo top modellato e dalla corta manichina a campana abbinato ad una gonna dalla classica e semplice linea a tubo. Direi che in questo caso l'elemento di particolarità è dato fondamentalmente da questa doppia fila di frange finali. Il servizio si chiude poi con un pantalone o meglio un pantapalazzo, quindi questo pantalone dalla gamba molto ampia e in cui l'ampiezza, la larghezza è data dall'arricchimento di un pannello, un pannello asimmetrico posto sul davanti. Il pantalone è abbinato a un top, un top con la scollatura V molto profonda, privo di maniche e con arricciatura in vita. Il servizio moda firmata questo mese invece ci propone una serie di abiti da cocktail, quindi insomma un po' pensati per la ripresa della vita sociale dopo il lungo periodo così in cui siamo stati un po' isolati e sono abiti tutti corti e realizzati con tessuti preziosi. In questa prima pagina troviamo un abito in paillette con scollatura a V e linea vita bassa, un po' quasi in stile charleston potremmo dire, mentre affiancato c'è un abito, un abito in tessuto broccato che è aderente grazie a una serie di numerose pens di modellatura. In paillette anche le due proposte successive abbiamo un abito monospalla con piccola manica a volant e un altro abito dalla linea leggermente trapezidale con pieghe sul centro davanti. Sono naturalmente tutti abiti che comunque secondo me si è realizzati con tessuti meno preziosi risultano certamente modelli molto adattabili per creare dei freschi abiti estivi perché il modello di base di partenza in realtà sono modelli diciamo così abbastanza semplici. Si intitola serate all'insegna della classe il servizio tagli forti che parte con una tuta in seta dal corpino leggermente incrociato e pantalone molto ampio. La tuta è abbinata a un giacchino con manica tre quarti, un giacchino molto corto e svelto. Poi abbiamo invece un accostamento di rosso e bianco composto da una gonna plissettata, una gonna semplice dalla linea semplice plissettata che scende fin sotto il ginocchio, abbinato a una blusa anch'essa incrociata con un leggero incrocio che si accompagna a un blazer dalla linea molto lineare appunto dritto e senza particolari tagli e svasature. Mentre il servizio si chiude con un abito un po' stile Marilyn, molto scenico senz'altro, in questo bel tono vivo di turchese, il corpino presenta un gioco di incrocio mentre l'abito è interamente plissettato. Poi per la moda bambini abbiamo una serie di body, camiccioline, copri mutandine che vanno un po' a creare una sorta di primo baby guardaroba primaverile estivo diciamo così. Dopo la panoramica dei modelli seguono come sempre le pagine con le spiegazioni e le istruzioni per ricavare tutti i modelli. Vi ricordo che se avete difficoltà a reperire la rivista in edicola potete contattare direttamente la redazione attraverso la pagina facebook carta modelli magazine oppure scrivendo una mail a cartamodelli chiocciola rototre.it. Vi ricordo anche la mia guida gratuita dedicata all'organizzazione dello spazio, lo spazio per il cucito naturalmente, che potete scaricare dal link che vi lascio qui in descrizione e anche dall'home page del canale. Come sempre aspetto i vostri commenti per sapere cosa ne pensiate di questo numero, vi mando un bacio e grazie, alla prossima, ciao!